La telecamera P&E House AHD25 ha una risoluzione AHD analog high definition di 5 megapixel. La telecamera è compatibile con i DVR di molti produttori grazie alla trasmissione di 4 tipi di segnale video analogico AHD, TVI, CVI, CVBS. Grazie ai 36 LED AR, la telecamera P&E House AHD25 può acquisire immagini nitide anche di notte fino a una distanza di 25 metri. La custodia in metallo e la classe di impermeabilità IP66 rendono la telecamera adatta per l'installazione all'esterno. La telecamera analogica P&E House AHD25 è compatibile con i sistemi ibridi di P&E come P&E AHD880 con un massimo di 8 canali analogici UIP. La telecamera P&E House AHD25 è stata un'unica di Q&A di Q&A di Q&A di Q&A.